Le nostre dieci, perché si tratta di dieci finaliste che vedrete qui passarella questa sera, arrivano da due semifinali, esattamente da Sanremo si è svolta il 10 di agosto e settimana scorsa eravamo a Rivaligure con l'ultima semifinale che ha appunto portato qui tutte queste ragazze. Ci siamo divertiti, sono state due belle serate e stasera, curiosi, fino alla fine andremo a vedere chi sarà la vincitrice. Le fasce sono tre, io ve le vado a ricordare, stasera andremo a leggere come terza classificata Miss Sorriso, come seconda classificata Miss Eleganza e chiaramente come prima classificata Miss La Riviera. A fare tutto ciò, oltre al pubblico, con i suoi applausi che sono fondamentali anche per andare a influire quello che è il giudizio della giuria, questa sera chiaramente tra di voi siede una giuria. Io ve li vado a presentare, faccio una carrellata con i loro nomi perché ci tengo di cuore, per quanto riguarda il comune di Ventimiglia, Roberto Nazari, vice sindaco, assessore allo sport, turismo e manifestazioni. Buonasera assessore, e poi ancora per la riviera, nonché anche il presidente della giuria questa sera, Andrea Moggio, direttore. Simona Maccaferri, sempre per la riviera giornalista, Angelo Boselli, sempre per la riviera giornalista, per la Kismet di Sanremo il Cavalier Paolo Alberti, presidente della Kismet. Poi abbiamo Romina Biasetti, ballerina classica, corrispondente del GEF in Argentina, buonasera anche a Romina. E poi abbiamo due, chiamiamole tecniche perché loro sono due ex modelle, dunque hanno sicuramente un occhio di valutazione pratico, mettiamola così. E sono Paola Divina e Bosio Rosalba.